Nonostante fosse stato già allontanato dall'ex compagna in regime di braccialetto elettronico per persecuzioni e minacce nei suoi confronti, aveva continuato a darle il tormento, violando il provvedimento restrittivo in più occasioni, aveva persino offerto dei soldi alla donna e al suo nuovo fidanzato affinché ritirassero le accuse, è stato arrestato dai carabinieri un 43enne di Barletta dopo l'ennesima denuncia presentata dalla donna ex compagna dell'indagato L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, l'ex compagna infatti lo aveva già denunciato nel 2022 perché costretta a vivere in un clima di timore e ansia a causa delle minacce ricevute, il 43enne ha continuato nella sua azione intimidatoria verso la donna anche in regime di braccialetto elettronico, da aprile a giugno 2023 era arrivato persino ad offrire dei soldi alla vittima chiedendo in cambio di ritirare le accuse nei suoi confronti minacciando in caso contrario di uccidere il suo attuale compagno. La donna, ormai allo stremo, si è rivolta nuovamente ai carabinieri. Pochi giorni dopo la denuncia il giudice per le indagini preliminari ne ha disposto la custodia cautelare in carcere per atti persecutori, tentata violenza privata e violazione del divieto di avvicinamento.